buongiorno a tutti eh benvenuti a questo webinar eh intitolato eh Club di prodotto le caratteristiche di uno strumento aggregativo che può contribuire a creare economie di scala nel mondo del turismo. Il relatore il signor Maurizio Testa coordinatore nazionale del progetto Artess. Io do la parola Maurizio. Bene grazie dell'introduzione Martina ehm staremo insieme una quarantina di minuti. Alla fine sarà possibile avere anche delle domande e delle risposte eh vi ricordo che eh potete fare domande premendo il bottone sul browser dove eh avete schiacciato per entrare in zoom cioè su zoom non è possibile fare domande ma dovete andare ecco per cui eh gli argomenti che eh che su cui parleremo se avete qualche domanda qualche cosa eccetera. Allora vediamo un attimino eh intanto di eh condividere lo schermo eh qui mi appoggio su una presentazione eccola qui. Perfetto allora io sono appunto Maurizio Testa sono il presidente della società Artess che è una SRL una società benefit in inglese si chiamano le B Corp quindi le società che nello statuto hanno sia la componente profit ma anche la componente di esternalità per creare valore sociale e bene comune. Ecco coordino il progetto Artess che è un progetto abbastanza complesso devo dire ma che si sta diffondendo ormai in tutta Italia e eh nel 2014 ho mettendo insieme tanti elementi ho eh sono stato diciamo ho contribuito a creare il modello story living experience che al di là di essere un disciplinare sul turismo esperienziale in senso ampio quindi qualsiasi modalità di turismo esperienziale trova lì dentro eh come dire una disciplina un metodo ma abbiamo alzato l'asticella a alla formula dello story living di cui abbiamo parlato eh mi pare la prima giornata. Ecco questo è il terzo intervento diciamo formativo informativo eh potete risentire tutti gli altri interventi il primo è stato proprio per spiegare che cosa è lo story living che è una innovazione molto forte eh diciamo che siamo all'avanguardia senza cioè rimanendo umili ma penso che a livello mondiale eh è qualche cosa di forte ecco qualcosa di simile l'ho trovata in Nuova Zelanda che come ho accennato in un altro webinar eh Nuova Zelanda sono i più avanti a mio avviso sul turismo a livello mondiale perché hanno meno risorse per cui hanno bellissime risorse ma ne hanno meno dell'Italia, della Francia, della Spagna e hanno dovuto aguzzare l'ingegno per cui chi ha meno per prendere quote di mercato si deve si è dato da fare. Allora eh ieri invece abbiamo parlato dell'operatore di turismo esperienziale oggi parliamo del club di prodotto perché appunto Artes ha fatto un po' di esperienza e ha aperto un club di prodotto ma al di là di accennare qualcosa anche del club di prodotto nato dalle dal lavoro di Artes che si chiama appunto Join Place eh di cui qualcosa accenerò ma vorrei fare un discorso generale sul tema delle aggregazioni. Poi oggi tutti i webinar eh nella che abbiamo eh avviato hanno un po' questo questo tre comune appunto delle aggregazioni quindi questa mattina il primo webinar è stato sul franchising, sui consulenti di viaggio, abbiamo fatto vedere il caso di di una società che travel expert appunto che che ha aggregato un certo numero di consulenti di viaggio in tutta Italia eh ho appena terminato un webinar con i centri commerciali naturali della Sardegna che mettono insieme complessivamente un migliaio di soggetti e quindi diciamo la necessità di aggregarsi per contribuire a fare economia di scala è da sempre una necessità noi italiani facciamo un gran fatica ma è inevitabile ecco il club di prodotto è una modalità che nel turismo ha preso piede eh in varie parti d'Italia farò vedere degli esempi e eh sicuramente contribuisce a creare economie di scala in specialmente utili dove la frammentazione e la la come dire essere piccolini è la caratteristica tipica appunto italiana. Allora detto questo eh inquadro velocemente alcune cose già dette in altri webinar ma per chi non le avesse sentite sarò molto veloce no? Allora è chiaro che siamo di fronte a un problema enorme perché il covid ci ha distrutto il mercato di quest'anno e a fine le le eh l'organizzazione del turismo mondiale eh prevedeva uno scenario di ricrescita ma è arrivata la seconda ondata e ci siamo bloccati per cui diciamo che il turismo è fermo ecco sappiamo che il duemila e ventuno ecco qui c'è una frase che è interessante al di là del covid ma quello la frase è il futuro non è più quello di una volta allora questa frase se non può un parola il futuro non è più quello di una volta cioè eh questo anche nei nostri corsi lo evidenziamo quello che cambia più di tutto è la velocità del cambiamento allora la velocità del cambiamento implica che dobbiamo essere molto agili ad adeguarci ai mercati che cambiano alle situazioni e col covid che per carità non è eh un problema di mercato ma è un problema sanitario forse figlio della globalizzazione ma di sicuro diciamo l'impatto che ha avuto è veloce perché la globalizzazione l'ha reso veloce i viaggi un miliardo e cinquecento milioni di viaggi nel duemiladiciannove è chiaro che tutto questo movimento di gente accelera certe pandemie che una volta succedevano eh con le con le navi che dalla Cina venivano dalla Cina ma insomma da un continente andavano in un altro continente e ora che la pandemia si sviluppava passavano anche anni invece gli esseri umani si pandemizzano in giorni giorni cosa ci ha voluto perché la Cina eh portarsi in Italia questa cosa pochissimo quindi diciamo che noi dobbiamo comprendere questo in generale come filosofia di vita che eh piaccia o non piaccia ma alcuni fenomeni eh di eh cambiamento del mondo tecnologia la globalizzazione eh eccetera e anche la numerosità delle persone fanno sì che il futuro cambia non è più quello di una volta ma non poco è molto diverso da quello di una volta perché tutto avviene molto più velocemente e qua ci sono cose positive e cose negative certamente dobbiamo prendere consapevolezza allora eh nel caso del turismo eh siamo passati da una logica di da dove andremo a cosa vivremo no quindi oltre le solite cose oltre quello se oltre le spiagge vogliamo necessitarli di posizionare su emozioni relazioni e tematismi ecco allora eh vado veloce perché sono cose già dette quindi ehm questo turista che l'anno 2021 sarà molto italiano ma in generale dobbiamo cominciare a prepararci un turista che cerca di più appunto i tematismi quindi l'artigianato, l'arte, la cultura, la storia, la natura, la gastronomia, la spiritualità, cioè vedete che se il turismo era il viaggiatore, va a vedere il Colosseo appunto cose ovvie, ora il viaggiatore vuole immergersi nella vita del territorio, la vita è tutto, è olistica, parola olistica eh ma di moda la uso anch'io ma cioè io ma c'è gente che chiede vado a Milano voglio passare una serata in casa di una famiglia, mangiare con una famiglia, conoscere una famiglia eccetera per dire eh o un paio di eh americane che abbiamo avuto qualche anno fa che hanno chiesto un viaggio specializzato sulla carne dicevo come ma sono matti? No erano sono due farmers americane e volevano vedere in Italia come gli allevamenti della carne come macellata e come viene mangiata e quindi costruirgli un viaggio così non è stata una cosa semplice però siamo riusciti perché grazie alla redazione eccetera quindi allora diciamo che questo turista noi dobbiamo offrire una relazione quindi il tema è appunto la relazione con con i locali, con il territorio, un'immersione che porta una forte emozione, l'emozione porta la memoria e quindi federalizzazione, ritorno e passaparola. Quindi questo vuol dire che per attrarre un cliente di più alto livello dobbiamo imparare a creare un'offerta distintiva, prodotti innovativi, professionali, marchi di qualità che rassicurino, palinsesti flessibili, facilmente adattabili perché è evidente che se io devo fare quel viaggio per le due americane è costato un sacco di lavoro ma se io invece ho dei palinsesti già semilavorati poi li posso personalizzare in ore allora diciamo ho un semilavorato perché il tailor vede è molto costoso mettendo in rete il territorio che diventa palcoscenico quindi il grande tema dell'aggregazione non è solamente un tema di promo commercializzazione ma è un tema anche di costruzione del prodotto e il prodotto turistico che costruisco deve essere integrato ecco qui non dico niente di nuovo e non è neanche un tema esperienziale di per sé l'esperienziale lo esaspera cioè lo aumenta come necessità ma ho raccontato gli esempi i castelli della Loira cose che non sono per nulla esperienziali di per sé ma integrare il territorio è su 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 la destinazione non diventa quello spicchio di territorio nel caso dei castelli della Loira su 320 chilometri è un prodotto a scaffale che io posso vendere che ha una sua dignità vado al castelli della Loira come se andassi in una nazione che si chiama il castelli della Loira ok vado veloce perché su queste cose troverete di più nei giorni scorsi per cui allora a questo punto si pone il tema dell'identità quindi noi che siamo nel territorio dobbiamo capire in funzione di una domanda che è molto frammentata qui è la domanda che si sta frammentando positivo se noi siamo frammentati però noi non possiamo andare bene per tutti quanti quindi ogni territorio dovrà porsi la domanda ma qual è la nostra identità qual è il genio sloci a chi a chi lo posso servire perché certi territori vanno bene per alcuni clienti ma non vanno bene per altri ecco ho appena terminato una bella conversazione con gli amici della sardegna è chiaro che se vi pongo un tema di destagionalizzazione la spiaggia il bel mare diventa un pelino meno importante diventa più importante le persone che incontro gli artigiani quello che faremo insieme l'attitudine all'accoglienza nel senso più alto accoglienza persone che accolgono persone non accoglienza letti da dormire ok quindi in funzione di chi siamo dei nostri valori capite che un'accoglienza non è che si inventa una empatia la devi avere e ci vogliono duemila anni per averla quella empatia gli italiani hanno gli italiani sono amati da tutto il mondo siamo il popolo la meta più desiderata perché ci portiamo dietro un'empatia che altri popoli non hanno poi i tedeschi sono bravissimi a fare le Audi le Volkswagen e tante cose ma magari hanno sono meno bravi su altri parametri allora i parametri dove noi siamo bravi li dobbiamo mettere all'incasso dal punto di vista di strategia nazionale allora il punto è che tutti questi ragionamenti tutto va bene io mi muovo da solo questa barchetta no io come se ognuno di noi fosse una barchetta e sta sul sul mare il sole splende tutto va bene il problema è che quando il mare comincia a andare in tempesta la barchetta non funziona più ci vuole un transatlantico ci vuole qualcos'altro quindi siccome appunto il futuro non è più quello di una volta il mare non è che in tempesta nel senso che non c'è più il sole il sole tornerà il covid passerà ma le cose saranno molto veloci per cui se io non sono agile non ho qualche cosa diciamo che mi sta sul mare in tempesta che cambia sempre rischio che un terremoto continuo quindi devo aggregarmi per forza qui ricordo un proverbio africano a cui tengo molto se vuoi andare veloce vai da solo quindi non è sbagliato dire chi fa da sé fa per tre è giustissimo ma solo c'è un problema di timing devo fare una cosa velocissima ma se voglio andare lontano e quando voglio fare strategia io devo mettere basi devo andare insieme agli altri quindi prendiamolo come stimolo e come diceva qualcuno meditate gente meditate ecco allora d'altra parte il campanile fa parte della cultura italiana il panorama non sono sicuro che sia italiano ma il campanile penso di sì il sistema italia per sua natura un sistema polverizzato c'è un fatto geografico c'è un fatto culturale noi siamo tanti popoli messi insieme e facciamo staticamente fatica a fare cose insieme quindi in questo intervento che parla di aggregazione credi prodotto prima di parlare di che cosa è che il prodotto devo dire che è un'aggregazione e devo dire che è inutile parlare di aggregazione se non abbiamo la testa per aggregarci quindi il tema grande è come coniugare un desiderio che noi abbiamo cioè noi italiani non vogliamo essere imbrigliati vogliamo essere liberi indipendenti al tempo stesso però capiamo appunto abbiamo visto oggi dei casi di successo che se ci aggreghiamo in modo intelligente troviamo una forza che da soli non avremmo forza per parlare con istituzioni forza per andare sul mercato economie di scala quindi anche investimenti che io da solo non potrei fare ecco ma che diciamo l'aggregazione può permettersi perché con contributo non solo monetario ma anche di pensiero di collaborazione eccetera si trovano energie che prima non avrei pensato di avere quindi la grande sfida è proprio come coniugare questo desiderio di libertà indipendenza di noi italiani giro spesso l'italia appunto per lavoro sento dire ma sai qui noi da noi adesso non dico dove siamo molto individualisti io dico guarda non preoccuparti perché ovunque siamo individualisti fa parte della cultura come trovare delle formule ecco ci viene incontro un cambiamento tra un cambiamento epocale perché vedete questo pianeta terra qui c'è la luna il pianeta quando nacque l'economia di mercato con adamo smith nel 1776 il pianeta era piatto cioè sì era tono ovviamente ma era il concetto niente era piatto era infinito poca gente risorse infinite adesso siamo 7 miliardi e mezzo nel giro di qualche anno arriveremo a 9 miliardi le risorse non sono infinite e il pianeta è piccolo allora noi semplificando tutto un discorso lungo che non sto qui a fare diciamo che noi siamo una grande nave spaziale ci dice siamo tutti sulla stessa barca beh la nostra barca è una nave spaziale perché il pianeta si muove nello spazio quindi noi non è mai successo che il pianeta sia così interdipendente le economie sono interdipendenti come mai lo sono stato prendete cina e stati uniti le fabbriche degli stati uniti stanno in cina anche il nostro di verità ma la cina possiede mi pare il 30 40 per cento del debito pubblico americano quindi capite che al di là degli sproloqui che sentiamo in televisione ma le due economie si sono sposate una con l'altra ecco questa interdipendenza riduce una serie di problemi conflittuali perché l'interdipendenza porta la collaborazione alla relazione quindi non c'è dubbio che si devono trovare collaborazioni e i conflitti si risolvono in modo comune dice no ma tu sei un po' un idealista no no questo non è idealismo questo è pragmaticità qui noi in televisione sentiamo spesso di più le cose come diceva Gandhi fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce quindi fa molto rumore in negativo in positivo che è fatto da 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 milioni e milioni e milioni di persone che collaborano che lavorano non si vede ma adesso prendiamo il caso dell'Europa banalmente no tutti contro l'Europa al tempo stesso c'è tutto un lavoro per esempio anche sul turismo c'è di di creare metodi procedure politiche perché per esempio nel turismo la guerra diciamo la guerra insomma il mercato cinesi non vedono tutta Italia non vedono lo sicuro stato vedono Europa per molti cinesi c'è l'Europa come noi gli Stati Uniti chiaro che poi c'è la California la Florida eccetera ma vado negli Stati Uniti il cinese va in Europa per cui molto probabile che un viaggio che lui fa tocchi se fa un viaggio di dieci giorni magari vuole toccare se non è mai stato in Europa diverse capitali tra cui anche l'Italia quindi la competizione non è sul campo turistico non è tra Milano e Palermo è tra gli Stati europei e tra l'Europa e altri continenti che che vorrebbero aumentare la loro quota sul turismo allora quindi quindi buona sostanza vediamo un pochettino le aggregazioni non sono facili ma non abbiamo alternative perché in un mondo complesso dove tutto è più veloce dove siamo interdipendenti noi Europa noi Italia noi regioni dobbiamo metterci insieme di più di prima di più di prima non abbiamo alternative allora qui non apro il tema della regionalizzazione del turismo che certamente rispetta alcuni punti che sono tipici delle regioni ma al tempo stesso c'è il rischio anche di dilapidare l'investimento di promo commercializzazione perché gli altri Stati si presentano come Stati uniti dal punto di vista di prodotto turistico invece l'Italia è un po' disunito capitolo quinto eccetera però non voglio entrare nella politica certamente come uomo di marketing dico che il sistema Italia ha bisogno di maggiore integrazione quindi collaborazione tra i singoli paesini i singoli distretti quindi la località ma ci vuole una globalizzazione che vada a volte l'aspetto regionale ecco servono per stare insieme appunto siamo appena usciti dall'incontro con gli amici della Sardegna dove la parola comune era emozioni passione di chi vuole fare l'aggregazione quindi servono valori reciprocità la reciprocità non è do ut des ma è il piacere di fare cose insieme qualche volta si prende di più qualche volta si prende di meno ma non è che uno fa una cosa allora perché devo prendere subito in tempo reale a volte anche c'è la circolarità di quello che ritorna per cui dove ho dato non è detto che io prenda ma siccome si scatenano dinamiche diciamo a domino a cascata poi magari il ritorno mi arriva da una conseguenza indiretta che non avevo neanche previsto ecco certamente la fiducia la cultura del valore sociale del bene comune quindi vedete che in questo panorama della collaborazione entrano valori che senza i quali di sicuro si fa fatica a farla funzionare ci vogliono persone speciali allora velocemente qui sono cose che ho già raccontato nei giorni scorsi allora ma di tutto questo per fare che cosa allora se noi fossimo gli amministratori delegati del sistema italia se fosse un'azienda noi sogneremo di avere i prodotti di alta qualità e i clienti migliori i clienti migliori sono sono quelli che pagano di più no non è detto sono quelli i clienti di più alto livello vediamo un pochettino no io vedo adesso questa segmentazione potrebbe essere un cliente fai da te che potrebbe anche essere un cliente di alto livello culturale e che vuol dire che si inserisce nel territorio con una buona immersione ecco poi c'è un mercato intermediato c'è un mercato luxuri allora diciamo che dal punto di vista dell'esperienza quindi delle attività esperienziali sotto abbiamo come sapete singole attività più andiamo sopra sono prodotti più sofisticati ma gli insesti sotto sono prodotti standard self service e sopra consulenza sopra col bottone si compra e sotto su richiesta ecco improvvisazione professionalità ma tutta questa slide scusate mi serviva solo per dire che io sognerei che il mercato italia si alza un po dal cliente fai da te che è un po' meno spendente ma non perché perché altrimenti io sono pieno di clienti che vanno a venezia non spendono niente il cinese si divide in due categorie cinese basso spendente poi medio alto spendente il medio alto spendente spende fino a mila euro al giorno e capite che fa 6-7 viaggi all'anno se avete sentito bene 6-7 viaggi all'anno viaggio in famiglia 4-8-12 persone su due o tre famiglie che viaggiano insieme questo è il cliente che noi dobbiamo portare in italia il cliente che arriva col pulma stipato 50 che fanno il giro delle capitali per carità io lo chiamo il cliente checklist va a venezia consuma poco o niente poi va a mangiare a mestre nel ristorante cinese ecco quel cliente ci riempie ecco io metterei forse io metterei una tassa di 100 euro per entrare a venezia minimo che dobbiamo rialzare il livello venezia dico venezia che conosco bene la situazione era una città di ritorno ora ritorno si è quasi azzerato cosa vuol dire che io ho un cliente che è morto e fugge mentre il cliente di ritorno è più stanziale poteva rimanere poteva fare le cose anche proprio diciamo di livello un po' più alto ecco quel cliente è un cliente fidelizzato e c'è tutta una serie di benefici quindi è chiaro che se io punto sul cliente di questo tipo probabilmente non sta nel cliente fai da te sta più nell'intermediazione o addirittura nel luxuri quindi se noi possiamo aumentare questo cliente che oggi parlando del cliente esperienziale viene spesso mandato in regioni dove c'è la percezione di maggiore sicurezza e maggiore industrializzazione del turismo capite bene la parola industria industria diciamo allora sono tutte cose fatte a cliché no industria vuol dire processi e metodi esempio semplicissimo catena best western l'hotel magari un hotel diciamo che nasce come family hotel inserito nella catena best western vuol dire procedure metodi vuol dire che io americano vado lì perché mi aspetto di avere certe un servizio di un certo livello cosa me lo dà il fatto che ci sia una metodologia industriale che garantisce quel livello ecco non so se questo ragionamento è chiaro questo è fondamentale quindi il marchio best western è sinonimo di valori la stessa cosa noi dobbiamo fare non solo negli hotel ma anche nell'accoglienza eccetera il fatto è che francia e spagna hanno una reputazione che noi in italia non abbiamo lo dico per parlare male dell'italia no lo dico perché ho sentito con le mie orecchie tu roper retor dire ma voi non si capisce bene siete un po improvvisati io preferisco andare sul sicuro e il turismo esperienziale è per sua natura più pericoloso del turismo normale perché il turista mette le mani in pasta ecco andiamo avanti allora quindi cosa vogliamo fare il ruolo delle aggregazioni allora vediamo un pochettino vado veloce intanto allora adesso partiamo diciamo con l'aspetto proprio più centrale del nostro le forme di aggregazione sono tanto ovviamente consorzio associazione teleimpresa accordi contratti marco collettivo e il credit prodotto che è l'argomento di cui ecco allora intanto cominciamo a dire che l'aggregazione funziona se non è invasiva perché più è invasiva e più la gente se la sente male addosso e non ci sta si concentra su obiettivi valore di ciascun membro di esigenza e non sulla strutturazione dei rapporti per cui ognuno deve essere libero abbiamo detto deve essersi libero di fare le sue cose all'interno di un sistema di obiettivi e valori comuni allora le caratteristiche ricorrenti dei club di prodotto quali sono intanto è aggregare soggetti che vogliono fare attività di promo commercializzazione e soggetti che si uniscono in riferimento a qualche cosa che li tiene insieme quindi un'iniziativa imprenditoriale e un terreno comune ovviamente quindi cosa c'è che ci tiene insieme attività focalizzate per esempio sull'incremento della qualità del prodotto e sulla commercializzazione ed è una forma di organizzazione con legami debole la comincio a dire che la regione veneto ha fatto un bando ancora qualche anno fa proprio per i club di prodotto e ha preteso la rete di impresa che comunque è abbastanza debole ma non è debole è abbastanza forte la rete di impresa ecco noi come artist abbiamo partecipato appunto due anni fa un bando su progetti di turismo esperienziale e abbiamo proposto un club di prodotto che non è una rete di impresa che è appunto il progetto story living che poi ha dato vita al club di prodotto joint place e quindi siamo rimasti su un legame debole ma un marchio che si porta dietro dei valori poi vedremo che cosa e comunque diciamo la regione l'è ci ha molto apprezzato e ci ha approvato come club di prodotto riconosciuto dalla regione ecco appunto operano tramite un comune ma un comune marchio di riconoscimento quindi alcuni esempi di club di prodotto allora premetto che diciamo dovendo costruire un club di prodotto siamo diventati esperti non vi posso dire che noi abbiamo fatto mille club di prodotto però vi trasferiamo in questo webinar un po' di cose che abbiamo imparato ecco e certamente pensiamo di sapere come si deve fare un club di prodotto ecco l'abbiamo imparato un pochettino allora qui ci sono per esempio i primissimi sono nati ovviamente eh dico ovviamente eh qui a Riccione dove eh i family hotel eh o familandia in trentino al più adegge o italy family hotel sono tre esempi di soggetti per esempio italy family hotel nato nel 2001 associava un po' di tempo fa 108 alberghi quindi in questo caso sono tutti alberghi tutti i club di prodotto legati all'ospitalità ecco cominciamo a dire che non è detto che tutti i club di prodotto devono avere solo l'ospitalità però l'ospitalità è una delle prime cose perché uno dice ma io c'ho la famiglia c'ho i bambini quindi vado in un albergo che ha tutta una serie di servizi garantiti che mi consentono di non avere problemi con la gestione dei bambini ok o della famiglia ecco quindi qui vedete che eh è presente in dodici regioni d'Italia per cui è un eh un club di prodotto su scala nazionale quindi vedete che qui non c'è più la regione con club di prodotto si può scavancare la regione meno male perché allora vuol dire che io mi muovo e tutti gli aderenti al club di prodotto in qualche modo fanno il riferimento anche tra gli altri quindi comincio a dire che è chiaro che ci vuole un regolamento e anche una qualità che deve essere garantita perché se io che sono a Riccione o io che sono l'albergo al dià di Riccione l'albergo X non rispetto i parametri di qualità definiti eh dal disciplinare del 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 credito prodotto allora il cliente dice ma allora questo credito prodotto non funziona e ne vado a rovinare la reputazione di tutti gli altri non so se è chiaro meccanismo no in una rete l'anello più debole stabilisce la qualità della rete quindi è evidente che quando ci si mette insieme bisogna chiedere alto commitment alto diciamo motivazione non è che uno dice non può essere una finta perché poi il servizio se non c'è non c'è e non è che ci rimette solo lui che sta a Riccione a Bonzano a Milano ma ci rimettono tutti quanti perché poi il cliente dirà sono andato in quell'albergo ma non era come mi aspettavo ma che razza di credito di prodotto è questo qui ok perché se è così questo sfiguriamoci gli altri ok andiamo avanti altro esempio un altro esempio nel mondo del cicloturismo l'Italy bike hotels eh dove l'elemento vincente lo ha fatto di un pacchetto di vacanza che non offre eh solo i servizi della struttura del ghiera ma tutti i servizi che voi sapete per le biciclette cioè chi va in bicicletta ha bisogno di diversi servizi quindi ancora qui abbiamo un tema per esempio trasportare i bagagli eh mentre vanno in bicicletta i bagagli viaggiano dall'altra parte o o altri o altri quindi è chiaro che maggior ragione la rete dell'Italy bike hotels deve essere nazionale perché uno si muove mica solamente in cinque chilometri magari uno si fa tutta l'Italia i venti giorni ecco questo invece è un po' più regionale diciamo che eh in Trentino Alto Adige sapete hanno avuto veramente ha fatto un'operazione notevole che tra l'altro porta a una forte versagionalizzazione dove l'esperienza è il benessere quindi ehm si va tutto l'anno a fare eh dimagrire dimagrire, cure, spa, massaggi e chi ne ha più ne metta eh e certamente loro sono stati bravi a creare una forte promozione di questo livello di servizi penso siano leader in Italia da questo punto di vista se non a livello anche europeo. Quindi vedete c'è un'idea che accomuna eh ce ne possono essere altri gli gli alberghi Italy Chinese friendly per esempio no? Ecco arriviamo a oppure ho in mente adesso non ricordo il nome di prodotto nato eh sul lago di Garda che mette insieme tutti gli alberghi che hanno dei parametri green ecosostenibilità ecco adesso non ricordo esattamente i parametri quali sono ma vuol dire che tu vai lì e per il turista che è attento agli aspetti dell'ecosostenibilità li trova che tutte le cose sono fatte in un certo modo oppure i cinesi quando viaggiano vogliono la garanzia che ci siano certe situazioni certi servizi ehm che il prodotto sia fatto in un certo modo e non c'è Santi se no non ci vanno e quindi è chiaro che il credit prodotto del di chi è Chinese friendly con un bollino ma anche di qualità garantisce che quell'albergo eh dà certi servizi oppure gli alberghi pet friendly eccetera quindi sugli alberghi come vedete la cosa è già abbastanza diffusa ora eh si tratta di portare questa logica un po' trasversalmente su tutta la filiera turistica la joint place è un caso è un caso diciamo nato da poco per cui non possiamo ancora dire che sia di successo dal punto di vista economico perché poi è nato e covid subito ha smorzato tutto però l'idea nasce da che cosa nasce da eh creare un club di prodotto che mette insieme i titolari di un prodotto esperienziale realizzato secondo il disciplinare story dealing di artes realizzati da un operatore ote di turismo esperienziale registrato in assotes quindi il gli chef del turismo esperienziale quindi è chiaro che io sono il titolare potrei essere la guida turistica ma posso anche essere l'agriturismo posso essere anche l'hotel che magari ho commissionato la progettazione a terzi di uno story living che avviene coinvolgendo in un albergo in qualche modo che il titolare vuol dire che è di mia proprietà intellettuale per cui è il mio story living per cui diventa un contenuto unico non parlo solo delle camere o di quanto si mangia bene o che c'è la spa o che sono a Venezia o che sono a Sorrento che è tutto bello ma parlo che io ti coinvolgo in un'avventura per cui vieni a Sorrento nel mio albergo che vivremo insieme un'avventura memorabile unica ripetibile siccome l'avventura è costruita con delle metodologie molto sofisticate diventa anche elemento di contenuto di marketing per cui ne faccio ne faccio anche io come albergo ne faccio un aspetto promozionale al tempo stesso dichiaro al mondo che ho un marchio di qualità che è joint place che vuol dire che il mio prodotto è certificato secondo tutta la metodologia che mi contraddistingue quindi mi distingo ho una innovazione distintiva allora chiaramente aderisce chi vede il vantaggio dell'economia di scala conseguente a presentarsi sul mercato sotto un marchio di qualità comune in questo caso l'innovazione quindi è distinguersi io ho qualche cosa che altri non hanno quando la gente cominciava ad avere le prime saune spa massaggi i primi erano i primi e poi adesso ce li hanno tutti la piscina una volta non ce li aveva quasi nessuno adesso molti hanno la piscina quindi capite che l'innovazione gioca un ruolo importante per alcuni anni fino a quando rimane innovazione quando poi fra dieci anni e vent'anni tutti avranno lo story living sarà un'innovazione minore anche se comunque distingue perché ogni storia è calata sullo specifico diciamo contesto che ruota intorno alla micro area di dove si svolge quindi in questo in questo club di prodotto possono aderire appunto gli operatori di turismo esperienziale ma anche gli hotel gli agriturismi in aziende le cantine gli artigiani ecco siccome è nato da poco e stiamo andando avanti adesso in tutta Italia a fare anche progettazioni con gruppi di cantine gruppi di agriturismi gruppi di realtà rurali eccetera dove diciamo l'aspetto esperienziale è già percepito capito ma qui trova un livello appunto di sofisticazione appunto da chef diciamo ecco ipotizziamo di far nascere dei sotto credit prodotto per cui il main sarà questo da joy place e sotto questo vuol dire che dare perché costa fare i credit prodotto per cui daremo modo di avere diciamo costi irrisori che sono una frazione del costo che sarebbe da avere la possibilità di aderire l'unico non vincolo l'unico punto di omogeneità è avere uno story living avere un prodotto story living tutto il resto diciamo avere un prodotto story living vuol dire anche avere dei valori adesso vediamo un attimino il regolamento l'altra cosa importante è che tutti i club di prodotto è chiaro che ci sarà un sito vetrina quindi ci sarà il sito dell'hotel pet friendly dove ci sono tutti gli hotel dove ci sono tutti quelli che fanno quel tipo di servizio e ciascun hotel nel suo hotel avrà la promozione ma io faccio parte di quel club di prodotto di quella rete e ho il marchio di qualità per cui lui nel suo sito cosa vuol dire che allora ciascun partecipante del club di prodotto in qualche modo promuove gli altri quindi cominciamo a dire che i club di prodotto creano collaborazione perché ciascuno diventa promotore di un marchio comune che promuove anche gli altri addirittura qui comincio già inoltrarmi in una cosa un po più sofisticata io che ho avuto dei clienti che sono venuti perché gli piaceva lo story living e sono venuti a milano l'anno prossimo magari quel cliente non mi passa più per milano l'ho perso e sappiamo che avere un cliente costa molto ma io che sono l'operatore di milano appoggiandomi alle infrastrutture commerciali del club di prodotto gli posso proporre al mio cliente le avventure fatte in sicilia e ci posso guadagnare ok adesso l'ho detta un po' grezza poi se serve specifico meglio quindi si riesce a fare un'attività di commercializzazione reciproca sul valore del cliente lo ripeto avere un cliente costa molto tantissimo oggi vince chi ha in mano il cliente non chi ha in mano il prodotto è chiaro che il cliente vuole anche il prodotto per cui il mio prodotto deve fare la differenza però a parità di prodotto vince chi ha il cliente allora se io ho la mia rete di x che nel tempo speriamo aumenti e che sia di copertura territoriale il cliente ha deciso che per mille motivi suoi di andare a isernia e l'anno dopo isernia non ci torna più allora se io ho avuto il cliente di isernia posso mantenere il rapporto con il mio cliente e dirgli vieni ancora isernia ritorno se proprio non ritorna ma che cosa che posso essere promozionale per altri viaggi in italia altrimenti quello va in francia l'anno dopo non andiamo in sicilia ma sono io che mi ha conosciuto se ho creato un rapporto che è conseguente alle emozioni memorabile unico ripetibile il rapporto che si è stabilito con me di vita forte per cui sono credibile per propogli un'altra cosa in un contesto dove troverà un'altra persona un altro albergo un altro otte un'altra guida turistica con le stesse caratteristiche umane valoriali che gli farà vivere la stessa cosa memorabile unica ripetibile quindi spero che con questo ragionamento si comincia a capire il valore che un club di prodotto di questo tipo può portare che è difficile per cui non è una cosa semplice che l'albergo di bozzano si figli dell'albergo o viceversa dell'albergo di messina al di là della latitudine perché dice io so del mio non so del suo ma se uno è entrato con questa filosofia garantisce certi servizi garantisce anche un modo di relazionarsi col cliente e c'è un terzo in questo caso è proprio il credito prodotto che è terza parte in causa che certifica e valida allora io operatore turistico di una destinazione a posso anche vendere vendere la destinazione b discorso che capisco che magari per molti potrebbe essere un po nuovo ma qua si può fare la differenza quindi l'ente gestore tutti i club di prodotto hanno un ente gestore nel caso di joint place l'ente gestore è la società al test offre un servizio di marketing comune la direzione tecnica per chi non è titolato a vendere prodotti multi servizi o pacchetti quindi può avere dentro dei tour operator come abbiamo e può anche avere la guida turistica che però potrebbe sotto certe diciamo normative e premure anche promuovere dei pacchetti autorizzati ecco il regolamento e ha degli allegati adesso io velocemente vediamo un po scusate che orari abbiamo fatto sì abbiamo ancora un po di minuti vi faccio vedere la architettura del regolamento eccolo qua allora un attimo che secondo me non lo vedete adesso condivido lo schermo intero e ve lo faccio vedere eccolo qua allora spero che si veda allora il regolamento allora questo è questo che state vedendo è il regolamento di joint place quindi ma se prendiamo un altro di questi club di prodotto che ho fatto vedere hanno cose simili poi ognuno c'è le sue specificità ovviamente il regolamento del club di prodotto è fatto in questo modo intanto siccome è nato a inizio di abbiamo già scritto che abbiamo previsto una fase di rodaggio ahimè c'è stato ben poco rodaggio perché di lavoro se ne è fatto poco quest'anno allora scopo visione valori vedete visione e valori che sono un po quelli che vi ho accennato prima il format story living è certamente parte della voce identità cioè noi tutti abbiamo sposato un format e siamo una piatta l'albergo l'agriturismo diventa una piattaforma dove questo fosse un cinema dove dove avvengono dove avvengono questo tipo di di intrattenimento ok per cui è il palcoscenico dove dove avviene l'avventura azioni poi struttura forma giuridica lente gestore marchi e proprietà intellettuale per esempio il i prodotti che vengono esposti sono della proprietà intellettuale del titolare chi è titolare vuol dire che ne ha la proprietà intellettuale magari non lo ha progettato lui però lo ha come dire ha faltato lui ecco i membri gli aderenti dunque ci sono delle procedure di ammissione per cui non è che entrano tutti quelli che vogliono ci sono un deve sottoscrivere alcuni valori e ci sono anche delle procedure di espulsione ecco sono previste perché uno dice altrimenti è sempre bene ma tu devi mantenere certe qualifiche se non le mantieni non puoi non puoi rimanere nel credito prodotto perché tu rovini la reputazione di tutti quindi vedete che è impegnativo ecco allora e poi ci sono gli collegati che li vediamo qua velocemente il codice il codice etico che per noi è fondamentale perché si appoggia a questi temi appunto della passione della della gratuità nel senso non del gratis ma della messa in gioco quindi centralità della persona la reciprocità delle relazioni e lo sviluppo del bene comune del valore sociale come intenzione quindi territorio la promozione del territorio eccetera e il formato story living quindi è il punto di riferimento requisiti e standard adesso chiaramente sono titoli impegni dei membri e condizioni di servizio quindi che cosa devono garantire come servizio poi meccanismi di business sono previsti allora se tu vendi l'altro per esempio il margine viene suddiviso a seconda quindi è già precodificato anche gli aspetti economici come come avvengono uno può entrare e appoggiarsi alla alla direzione tecnica del club di prodotto per cui è il club di prodotto che fattura le fatture attive le fatture passive oppure diceva no io mi arrangio perché sono turo per eto perché ho le competenze perché mi arrangio e faccio io ed è un altro scenario quindi diciamo che un questo club di prodotto fatto salvo l'unica legge dal punto di vista formale di avere almeno un prodotto story living e fatta salvo l'adesione al codice etico quindi all'adesione ai valori che il turista poi troverà chiaramente no perché i valori non sono finti sono le persone di quell'albergo di quell'agriturismo di quella quella guida se quei valori sono veri poi diventano un valore per il turista che si ritrova in un ambiente familiare che si ritrova a casa sua che si accolto e non spennato eccetera eccetera ecco allora tutto il resto diciamo è molto leggero molto leggero in modo che possono entrare varie categorie di soggetti appunto come dicevo tutti quelli che hanno un prodotto story living quindi teoricamente tante filiere diverse che si ritrovano poi a collaborare se lo ritengono opportuno potrebbero anche non collaborare ma a quel punto lì non è neanche tanto senso che entrino nel credito prodotto insomma quindi credito prodotto non è il soggetto a cui delegare ma tanto ci pensa credito prodotto a vendere certo che credito prodotto anche fattività a favore dei per esempio durante questa b test la collega stefania che è il direttore tecnico e responsabile commerciale del joint place sta facendosi una quarantina di incontri diciamo a beneficio di tutti gli associati una quarantina di incontri con i buyers la settimana l'altra abbiamo fatto un'altra trentina con l'international travel week eccetera quindi diciamo che è chiaro che il credito prodotto fa delle azioni che sono a beneficio di tutti ma non è che va a sostituire il lavoro che tutti devono fare anche perché altrimenti ci vorrebbero investimenti molto più alti di quelli che sono oggi in campo di sicuro l'ultima cosa che posso dire nel caso di joint place deve favorire la collaborazione tra i aderenti per esempio abbiamo partecipato un'altra fiera l'agri travel di Bergamo e abbiamo coinvolto tutti gli agriturismi che fanno parte del credito prodotto noi abbiamo fatto una proposta di scambio merci per cui abbiamo creato dei webinar gratuitamente abbiamo fatto per il la fiera webinar di solito spero apprezzati e professionali quando si parla di turismo esperienziale e gratuitamente abbiamo avuto lo spazio del lo stand eccetera che è stato animato e a mezza giornata dai nostri soci che non hanno speso una lira altrimenti avrebbero dovuto spendere i soldini per fare quella cosa lì quindi un esempio per dire che ci si dà una mano a fare le cose ecco allora dunque vediamo un attimo torniamo qui regolamento ecco allora sì ho già detto prima il joint place è figlio di un progetto voluto e finanziato da regione veneto questo perché lo dico perché adesso per esempio il caso vuole ancora in veneto stiamo partendo con un progetto simile con 40 cantine ecco hanno trovato un bando perché poi bisogna fare la formazione bisogna fare la progettazione bisogna coordinare lo stare insieme e nascerà un sotto un sotto progetto un sotto credit prodotto che rientrerà dentro joint place quindi con le cantine saranno solo cantine del veneto no perché sono della FIVI sono della federazione italiana di gaioli indipendenti c'è dentro anche la presidente e quindi è un prototipo se funziona lì porteremo quel credit prodotto in tutta Italia perché questi della FIVI fino adesso che sono migliaia di cantine diciamo piccole cantine quindi non importanti cantine dove però vendono il vino che producono loro quindi questa è un po' la caratteristica del vignaglio indipendente hanno visto che i colleghi francesi sono avanti di vent'anni e dicono anche noi vogliamo fare come i colleghi francesi e quindi eccoci qua a creare quindi è chiaro che vedete che nascono reti rette di reti ecco quindi oppure un altro esempio ecco in campagna stanno nascendo anche lì collaborazioni con diversi agriturismi che con i gall stanno lavorando ci sono anche lì dei finanziamenti è chiaro che costruire la rete è lavoro per cui per fortuna però posso dire che o tramite l'Europa o tramite la regione o tramite il GAL o tramite la camera di commercio obiettivamente i soldi non mancano mancano i progetti mancano le idee manca la visione ecco noi siccome veniamo un po' dal marketing strategico io personalmente sono 30 anni che mi occupo di marketing strategico spero di spero che possiamo portare un aiuto per operare dei progetti concreti che mettano insieme in realtà che hanno motivi per farlo quindi nel caso del progetto Story Living è nato da un bando che dove la regione Verito voleva adottare gli operatori regionali di professionalità e competenze specifiche sul turismo esperienziale quindi eravamo proprio quello che facciamo noi facilitare percorsi di rete e collaborazione degli operatori per aver messo in opera di nuovi prodotti turistici quindi abbiamo fatto la formazione e abbiamo messo a punto i prodotti di pare 25 26 prodotti abbiamo realizzato e e quindi arricchire e promuovere le nuove offerte eccetera e promuovere e quindi è nato il joint place diciamo che joint place è figlio di questo progetto della regione Veneto però come ho anche accennato all'inizio di Bitest perché era quel professor Marchioro che diciamo era il fautore di questo bando e noi gli ho detto professore noi abbiamo preso spunto ma l'abbiamo subito dal Veneto ma l'abbiamo subito messo a fattore comune tutta Italia per cui dopo poche settimane diciamo che i nostri aderenti che già avevano fatto altri prodotti sono entrati anche loro in joint place e quindi questo ha creato subito un marchio nazionale un po come avete visto prima i marchi degli alberghi eccetera solo che questo non è solo albergo questo è olistico quindi è tutti gli attori che hanno appunto un prodotto story living. Concludo ricordando non l'ho fatto all'inizio che cosa è il progetto Artesse e a questo punto ha trovato con il creme di prodotto ha trovato una sua completezza quindi il nostro obiettivo è aiutare l'Italia il sistema Italia a riposizionare una strategia di offerta secondo una domanda che è sempre più esigente i tempi cambiano abbiamo detto eccetera con professionalità e innovazione scusate se continua a parlare di innovazione che è un po il tema anche di questa vita innovazione collaborazione relazione quindi abbiamo dato vita a questo disciplinare che si chiama story living experience che per il 70 per cento diciamo il concetto di story living non c'è perché ci sono alcune cose che sono che vanno benissimo per qualsiasi diciamo prodotto esperienziale poi c'è un 30 per cento che alza l'asticella ma alza tanto l'asticella è un prodotto sofisticato è un prodotto complicato da fare non è improvvisato ma potrei dire bisogna lavorarci non poco per farlo bene però quello che possiamo dire dopo ormai alcuni anni che siamo in pista produce l'effetto che viene promesso cioè la memorabile un unico irripetibile è un prodotto eclatante mi fermo qui perché se non dovrei parlare troppo ci porta dietro la professione dell'operatore di turismo esperienziale che quindi sa creare prodotti fino alla complessità dello story living poi può fare anche cose più semplici ma se io sono lo chef che so fare i piatti più complicati ovviamente so fare anche quelli più semplici e quindi è nata l'associazione assotes e da inizio anno appunto abbiamo dato vita al credit prodotto che certifica e promuove l'offerta di prodotto story living su tutto il territorio nazionale che vuol dire che uno un operatore che vuol fare un viaggio in italia trova in questo marchio le ciliegine non trova la torta se serve di facciamo anche la torta per carità non è che ci tiriamo indietro ma trova le ciliegine che lui metterà sulla sua torta quindi siamo in una logica b2b ecco b2b2c anche cioè dove per esempio incontri degli appassionati associazioni allora lì puoi fare appunto il viaggio eccetera collaboriamo la nostra logica è di collaborazione quindi siamo una rotellina della filiera per cui per esempio siamo contenti di collaborare con un franchising come oggi abbiamo parlato di travel expert dove noi offriremo i nostri prodotti i weekend di prossimità li faranno loro quindi valore per loro cioè il tema è fare ognuno faccia bene la sua parte ce n'è per tutti ecco ci appoggiamo questo posso dire perché l'aspetto valoriale importante quindi da una parte valori che sono centrati sulla persona quindi l'economia civile qui c'è questo libro per chi fosse interessato dove i due professori luigino bruni e stefano zamagni dell'università di bologna luigino bruni sta a roma di un altro università ecco fare questi processi di cambiamento sociale sono complicati qui noi aderiamo a questa filosofia che si chiama teoria u eh di questo professore dell'omiti otto shannon tedesco ma sta ma sta a boston eh dove ci sono metodi per processi per gestire processi di cambiamento centrati sulle persone questo è fondamentale possiamo teorizzare le cose più belle poi poi non ci sono le persone non si combina niente e poi diciamo entrando nello specifico del marketing dell'esperienza eh come tutta l'economia dell'esperienza si appoggia ad alcune metodologie che sono pubbliche e si possono ricavare da dalla dalla competenza diffusa da questi due autori che nel 99 hanno scritto il libro l'economia dell'esperienza Joseph Pine e Gilmore. Allora io ho concluso diciamo questa rassegna di ragionamenti di concetti spero di non aver confuso troppo quindi fare i credit prodotto io ho parlato di joint place ma fate quello che volete fa aggregatevi perché se non vi aggregate non ce la fate quindi l'Italia con tutti questi ragionamenti il nostro diciamo motto è che l'Italia può far felice tutto il mondo perché è quello che che il mondo vuole dall'Italia. Cioè l'Italia non è solo mangiare ma è questo benessere profondo dell'incontro con le persone questo incontro qui vedete no? Questi due eh sposi del New Jersey dopo un quarto d'ora mi ha detto Imma erano già gasatissimi, felicissimi, con occhi che brillano ecco questa è la felicità, il senso di benessere, il gioia, il gioi, gioia, gioi insieme play, essere protagonisti, giocare, play nel posto con il genio sloci nel posto ecco io qua ho terminato e eh diciamo che ho anche un po' sforato mi scuso chiedo a eh Valentina a Martina se per caso una una domanda due riesco a rispondere eh eh tante cose ecco sappiate che fino al 30 di eh novembre questa trasmissione sarà eh riascoltabile nella piattaforma digitale qui della BITESP e poi la inseriremo anche nel nostro sito ehm per eh successivamente nel sito di progetto artes.it allora Martina c'è qualche domanda? Sì eccoci qua allora allora innanzitutto buongiorno ci ci ringrazia è un nostro seller eh sarebbe utile avere le slide di questa presentazione su cui ci vediamo completamente riconosciuti ma che ha spunti ancora da sviluppare grazie mille. Certo gli spunti sono da sviluppare e io sono stato molto sintetico perché è chiaro. Allora diciamo che le slide non so se se riusciremo a dare disponibili anche poi ci daranno anche i le mail per cui vediamo eh e anche i commenti per cui saprò la persona che ha chiesto. Di sicuro ripeto potete riascoltare. Ora la grande sfida eh ho sentito in cui ci sentiamo riconosciuti è incontrarci e mettere in pista come dire processi di collaborazione. Eh allora qui dico una cosa a noi arriva tantissima gente che dice collaboriamo anche noi facciamo prodotti esperienziali ma in Italia una valanga di gente fa prodotti esperienziali e sono fatti magari ottimi ma sono fatti col buon senso non c'è un metodo dietro. Io non devo ancora trovare l'unico che conosco che ha il metodo sono le cesarine. Le famose cesarine che sono le nonne che fanno i pranzi e le cene. Dice un metodo c'è un disciplinare anche se non è quel prodotto. È stato creato da una professoressa di marketing bravissima di Bologna. Però queste sono organizzate pur essendo spontanee e genuine. Allora c'è un binario. Ecco noi creiamo uno scheletro per costruire. Quindi l'unico vincolo che mettiamo nella collaborazione è collaboriamo con tutti quelli che vogliono come dire sposare un formato. Il che non vuol dire che poi la loro offerta è fatta solo di quel formato. Cioè il formato fa la ciliegina superiore. Almeno così noi pensiamo. Poi magari possono fare tante altre cose. Però abbiamo consapevolezza che possiamo parlare di professionalità. Altrimenti se non ci sono metodi e processi come facciamo a parlare di professionalità? Capite la differenza? Come si fa? Il turismo esperienziale tocca qualsiasi cosa. Quindi può essere un minestrone che non si capisce niente se non c'è una professionalità dietro. A priori. Poi magari lo vivi, è bellissimo, è fatto bene. Allora devo assaggiarlo. Cosa succede? Che se tutti sono fatti con un certo metodo, il buyer non li deve assaggiare tutti. Ne assaggia uno e ha capito come funzionano tutti. Capite? C'è un vantaggio anche su quel lato. Altre domande? Sì, c'è un'altra domanda. Allora, a livello di commercializzazione delle esperienze, qual è il vantaggio competitivo di Joint Place rispetto alle esperienze di Airbnb? Airbnb e si basa su esperienze che hanno un formato che loro ti danno poco plausibile, onestamente, e poi sono tutti abusivi. Scusate, sono tutti abusivi. Sono spesso sono abusivi. Ecco, quindi, e non è lo stesso mercato. Cioè, Airbnb vende al consumer, noi vogliamo vendere B2B di alto livello, di medio-alto livello, che non è solo luxury. Quindi, noi non andiamo nelle OTA, tanto per spiegarsi. Cioè, noi dobbiamo andare B2B. Ecco, e poi dobbiamo andare con chi ha già il cliente. Cioè, la guida turistica che si specializza e partecipa a questa avventura ha già i suoi clienti. Capite? E dice ai miei clienti, caro cliente, io ti vendo qualche cosa di nuovo. Allora mi distingo. L'albergo dice, io ti vendo qualcosa di nuovo. Vieni qui a vivere questa esperienza, questa storia, dove anche il mio albergo, a Venezia, siamo lavorando con alcuni alberghi che diventano house of stories. Cioè, un riposizionamento strategico dell'albergo. Quindi, diventano dei portali e, certamente, loro possono vendere tanti prodotti esperienziali di tutti i tipi, ma avranno un prodotto che è il prodotto proprio costruito dove l'albergo è il punto di inizio del palcoscenico. Poi la città diventa un palcoscenico dove il titolare dell'albergo, che è esperto di storie, eccetera, accompagna, fa delle cose, eccetera. Quindi, diciamo che non siamo confrontabili con Airbnb. È un altro mercato. Ok. Direi che ci siamo. Poi c'era un'altra richiesta di slide, ma ha già risposto. Quindi, dopo mandiamo le mail, comunque, gli indirizzi mail. Benissimo. Allora, intanto vi ringrazio a tutti quanti per aver ascoltato. È chiaro che qui, in poco tempo, noi abbiamo lanciato dei messaggi. Già sul nostro sito trovate una marea di webinar dove tanti di questi ragionamenti sono approfonditi, ma i nostri corsi, noi abbiamo un corso base che, insomma, lo teniamo a costi veramente bassissimi, perché ci serve per introdurre. Per cui, chi vuole capire bene tutti questi ragionamenti, di solito partecipa al nostro corso base, indipendentemente che poi lui voglia fare l'operatore di turismo esperienziale. Per cui partecipano hotel, agriturismi, eccetera, per capire anche come posizionare la propria offerta. Altrimenti è un calderone. Attenzione, calderone non è una cosa sbagliata. Ognuno vende quello che ha. Ecco. È chiaro che se però io voglio diventare chef, devo fare qualcosa altro. Quindi, qui stiamo parlando di creare degli chef del turismo esperienziale. Turismo esperienziale è il turismo, poi se le sigle, perché tocca qualsiasi cosa, quindi è il turismo dei turismi, perché tocca qualsiasi cosa. Il turismo gastronomico, il turismo sportivo, il turismo in bicicletta, il turismo culturale. Cioè, il turismo esperienziale è l'immersione in una relazione che crea forti emozioni. Ecco, il turismo emozionale. L'altro giorno c'era una collega che diceva no, facciamo il turismo emozionale. Ma certo, ma l'emozione vuol dire che devi vivere un'esperienza fatta in un certo modo. E ci sono dei metodi per governare l'emozione. Cioè, l'emozione senza manipolazione, ma ci sono dei metodi affinché ci sia una curva dell'emozione. Ecco, tutte queste cose bisogna saperle fare. E noi, grazie a Dio, ormai sono cinque o sei anni che le insegniamo, abbiamo avuto più di cinquecento, diciamo, persone che hanno partecipato e penso che al momento hanno avuto tutto il giovamento, anche solo, diciamo, indipendentemente se fare poi story living oppure no. Quindi aiutiamo il sistema italiano a alzarsi di livello su un parametro dove oggi c'è poca formazione. Ecco, e non c'è, e c'è poca definizione di metodo. Benissimo. Io allora vi ringrazio, mi sembra che abbiamo terminato e vi auguro buona continuazione e buon gradimento di tutte le iniziative. A una cosa sola, diciamo, alle due do il gancio al prossimo intervento che sarà alle due, per chi riesce a partecipare, dove si parlerà di extra alberghiero, property management e turismo esperienziale, con Danilo Beltrante, che è fondatore di Vivere di Turismo, un network di decine di migliaia di operatori appunto dell'extra alberghiero, e Karin Venneri, in rappresentanza di Wonderful Italy, che è una start-up di un certo successo, molto interessante, dove i property management imparano ad avere un'opportunità di portare all'incasso tutta una serie di capacità, anche qui metodo, processo, format, e condotto dalla nostra Rita Covello, che è una dei soci di Artes. Grazie mille Maurizio, grazie a tutti. Arrivederci.